La chiusura dal 16 al 30 ottobre 2020 delle scuole primarie e secondarie ordinata dal governatore Vincenzo De Luca rappresenta il lampante fallimento politico del governo di Giuseppe Conte e del presidente della Campania nella gestione dell'emergenza coronavirus. E la cosa che sembra non abbiano capito coloro che sui social si stanno dividendo tra pro e contro questa decisione è il fatto che quanto sta accadendo a livello nazionale e regionale è il frutto di scelte politiche sbagliate fatte a tutti i livelli istituzionali non solo negli ultimi mesi ma negli ultimi anni dai rappresentanti di tutte le forze politiche facendo parte dell'arco costituzionale di centro, centro-destra e centro-sinistra. E mi riferisco da un lato allo sfascio della sanità e dall'altro alle controriforme con cui si è voluto azzoppare la scuola pubblica in cui regna la confusione organizzativa più totale. Personalmente in considerazione delle preoccupanti previsioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità che prevedevano esponenziale aumento dei contagi nei paesi europei per i mesi di ottobre e novembre. Tenuto conto dell'arrivo del freddo e delle parainfluenze e soprattutto del rischioso sovrapporsi dell'influenza stagionale al coronavirus, considerato che bambini e ragazzi potessero facilmente trasmettere il contagio a genitori e nonno all'interno delle loro famiglie. E visto che il sistema sanitario, nonostante ci fossero stati molti mesi a disposizione, non è stato adeguato ad affrontare la seconda ondata di Covid-19 a partire dall'aumento dei posti letto di terapia intensiva, già da quest'estate ritenevo che almeno per il primo quadrimestre era opportuno iniziare con la didattica a distanza. Ed invece, pur di voler dimostrare quell'efficienza che neppure in una situazione ordinaria riescono a garantire, figuriamoci in una situazione delicata e straordinaria come quella di una pandemia, il primo ministro Conte e la ministra Azzolina non hanno voluto sentire ragioni ed hanno detto che la scuola avrebbe riaperto. Punto. E per mostrare la loro efficienza si sono limitati all'acquisto, inutile tra l'altro, di banchi monoposto con rotelle, sicuramente molto più delicati dei banchi monoposto di legno e che quindi avranno anche breve durata. Soldi pubblici spesperati, che invece andavano investiti per dotare di dispositivi informatici e linee internet tutti gli alunni e gli studenti italiani che ne sono ancora sprovvisti. Salvo poi, come se non bastassero mancanza di spazi e di aure, ad arrivare a metà ottobre con le scuole ancora ad organico ridotto di docenti e personale alta. Da non credere. Intanto, così come era facilmente prevedibile, con l'apertura dell'anno scolastico i contagi nel mondo della scuola hanno cominciato a diffondersi a macchia d'olio, anche e soprattutto a causa degli assembramenti creati sulle fermate nei mezzi di trasporto pubblico, a partire proprio dalla campagna. Risultato, centinaia di scuole chiuse e migliaia di classi messe in isolamento in tutta Italia, con ragazzi e bambini piccoli costretti alla quarantena e all'affettuazione del tampone. Tutte conseguenze traumatiche che noi adulti avevamo il dovere di evitare ai nostri figli, pretendendo l'inizio della scuola attraverso la didattica a distanza, almeno per il primo quadrimestre. E' in attesa che la tempesta sanitaria passi e poi si sarebbe visto il da farsi considerato, così come sostiene il ministro della salute Speranza, che con il passare dell'inverno dovremmo cominciare a vedere la luce in fondo al tunnel.